la tv 5 stelle raddoppia ci sono tanti argomenti da approfondire e per questo un ulteriore appuntamento con la tv in movimento per questo speciale saranno ospiti in diretta daniele esposito paternò giuseppe lomonaco salvo mandarà reporter per caso presenta la tv 5 stelle speciale a fare clorosoda del petrolchimico di cela lunedì 3 dicembre ore 21 e 30 in diretta sul canale youtube di salvo mandara www.youtube.com slash salvo mandara per essere sempre aggiornato iscriviti al canale visita anche il sito tv 5 stelle punto blogspot punto it grazie